sviluppo dell'arte ceramica in Italia che sta a fondamento del rinascimento della Maiolica dell'Agnani e che si esplicava la concezione gerarchica dei centri di fabbrica che oggi è assai difficile da accettare. Tale concezione infatti non riesce a dar conto della effettiva pluralità dei centri di fabbrica operanti in Italia che la ricerca storica e ceramologica non ha mancato di individuare, mostrando come essi abbiano potuto attingere di volta in volta ad un relativo livello di eccellenza, alimentando anche scambi reciproci all'interno dei quali ben difficilmente si potrebbe stilare un bilancio di quanto dall'uno sia stato ceduto e dall'altro assimilato. Emblematico di questa visione storica il contenuto di un intervento dello stesso Ballardini ad una riunione promossa dalla Società Storica per le Provincie Romagnole negli anni 20, poi pubblicato sulla rivista Faenza. Enunciando il suo metodo storiografico Ballardini coglie l'occasione per criticare la deriva centripeta che gli sembra nascere dal clamore suscitato dall'invenimento effettuato in Mondaino, un piccolo centro dell'appellino riminese di un interessante scario di fornace di epoca rinascimentale. La presenza di questi centri, ritenuti piccoli, ma se vedete la serie documentaria pubblicata da Parete per Berardi su Pesaro, vi accorgete che i mondainesi sono ben presenti nelle attività ceramiste di Pesaro, non poteva secondo i Ballardini compromettere quella visione gerarchica dello sviluppo della pittura su smalto in Italia che era già stata stabilita e che poneva al vertice un numero ristretto di centri rappresentati sostanzialmente da Faenza, Urbino, Casteldurante e Deluto. Quanto questa visione fosse foriera di errori, lo indica però il conseguente inserimento da parte del Liberani del tardo figurato di Montelupo nell'orbita del cosiddetto compendiario. Questi sono i ben noti Arlecchi. Si tratta di un errore davvero clamoroso nel quale lo studioso Farentino non avrebbe dovuto incorrere in quanto proprio a lui si deve la compiuta definizione del compendiario e la sottolineatura del fatto che questo era un genere rivoluzionario che ha cambiato la storia della ceramica in Italia, prendo di fatto un'epoca nuova. Questo è un compendiario Farentino. Dovendo però inserire Montelupo nell'orbita faentina sulla scorta dei documenti che mostravano la presenza di alcuni vasai romagnoli nel centro valdarnese con una vera e propria petizio principis, perseguendo l'idea di rapportare l'attività di questo centro nel solco del compendiario, Liberani finì per contraddire se stesso, non accorgendosi questo genere di figurato noto gergalmente come Alecchino, rappresentava piuttosto l'estenuazione dell'istoriato e del figurato politromo in genere e non aveva quindi niente a che spartire con i canoni del suo compendiario, come ben si vede risalendo indietro nella tradizione di questo genere di maioli. Bene, giunti a questo punto, per restare anche nei tempi assegnati, ormai forse sono superati, cercherò di riassumere brevemente l'argomentazione che ho svolto, sovolando anche, perché non c'è veramente tempo, ma sarebbe un argomento fondamentale, la continuità che occorre stabilire tra Medioevo e Rinascimento, cosa che avete visto era negata dagli studiosi del passato, che però troverà qualche con l'ultima parte del mio discorso. Posso riassumere così i concetti che abbiamo ricordato nelle loro linee essenziali, i concetti che ha perseguito la storiografia ceramologica in età. Primo, la periodizzazione, che pone negli anni 1520-40 il culmine dello sviluppo della pittura su smalto. Secondo, la predilezione per il figurato e storiato. Terzo, il supposto apporto nobiliare e signorile all'attività ceramistica, non concepito come mera committenza, ma piuttosto quale sostegno diretto. Quarto, la concezione diffusionistica dell'articenamica in Italia. Come ho cercato di dimostrare, questa rete concettuale non riesce a dar conto dello sviluppo storico delle fornace di Montelupo. E ciò, almeno che non si voglia supporre, senza evidenti ragioni, che Montelupo rappresenta un'eccezione assoluta nella storia della ceramica italiana, rappresenta un problema non indifferente, visto anche il ruolo che Montelupo ha esercitato nel panorama nazionale. Da tutto questo dovremo perciò dedurre un semplice sillogismo, che cioè ciò che si rivela incapace di comprendere un caso di se fatto importanza, si rivelerà certamente inadatto anche a scrivere la storia degli altri. Essendo di ciò fermamente convinto, non mi resta dunque che indicare, sia pure sommariamente, quali invece dovrebbero essere i criteri informatori da assegnare a queste ricerche. Essi trovano la loro sintesi nel concetto di centro di fabbrica, per definire il quale è necessario porre l'attenzione su alcune problematiche di non poco momento. La prima consiste nel fatto che si rivela profondamente sbagliato pensare che, come avveniva per le manifatture tessili, la fabbricazione della ceramica e le arti del fuoco in generale abbiano trovato buona collocazione all'interno delle città. Per rendersi conto di ciò, basterà richiamare, ad esempio, l'attività vetraria che in Toscana è radicata nei boschi della Valdezza, non certo a Firenze, e al di fuori di questa regione a Venezia, dove trova il luogo di direzione nell'isola di Murano, a Savona, dove è decentrata nel borgo di Altare. Tutte località, dunque, che stanno ben al di fuori dei centri maggiori. Non per caso, dunque, anche le attività ceramistiche di Pisa furono in origine concentrate nell'area periferica di Barattolaria e a Firenze vennero confinate nell'Oltrarno, mentre negli Spagna trovarono il loro sviluppo, piuttosto che a Valencia, nelle cittadine di Manises e Paterna. Non per caso, nonostante la massiccia affluenza di vasai proveniente da tutta Italia, Montolupo compresa, le fornaci ceramiche attive in Roma non riuscirono mai a soddisfare neppure lontanamente il consumo della città, tanto che la città era alimentata fortemente da importazioni dall'esterno. E non per caso, dopo il 1530, non si segnalano più fornaci ceramiche in Firenze, mentre nelle epoche precedenti, poi gli esercizi in attività tra le mura urbane erano quasi tutti gestiti da vasai che provenivano dalle centri di fabbrica del contado, e cioè dall'Impruneta, Macchereto e Montolupo. Vi sono però motivazioni di carattere economico e sociale ancora più potenti del non trascurabile timore per l'incolumità cittadina dagli incendi, che favoriscono il decentramento delle attività nelle terre comitatine. Per essere introdotte in città, infatti, le materie prime di combustibile dovevano assoggettarsi al pagamento della gabella, mentre una piccola comunità che fonda interamente la sua prosperità economica sullo sviluppo di una manifattura privilegiata tende ovviamente a favorirla sino ad alleviare il più possibile gli oneri che la colpiscono. I salari, inoltre, sono più bassi nelle terre murate del contado. L'organizzazione corporativa può quindi derogare dalla stretta osservanza delle norme, cosa che, soltanto per il confronto tra le arti, non poteva avvenire in città. In questi luoghi, inoltre, nei luoghi del contado, non si lavora per il consumo locale, che è assai limitato, ma tutto il prodotto è destinato all'esportazione, in pratica, la quale può così assumere un raggio modesto, ma, qualora sia alimentata da investitori esterni, espandersi grandemente, sino a raggiungere, come nel caso di Monterupo e di Manises, ma anche di De Luta e di Albissola, una dimensione internazionale. Dal confronto sui mercati forestieri, inoltre, nasce una competizione tecnologica ed estetica di fondamentale importanza, la quale non può essere ignorata dai mercanti imprenditori che commerciano questi prodotti. Non è così improbabile che i medesimi commercianti ricerchino, per migliorare le loro posizioni di mercato, anche il sostegno di forze intellettuali che operano nelle città nelle quali essi risiedono. È in questo genere di centri di fabbrica, animati dal capitale mercantile, più che dal sostegno dei centri nobiliari, che si sviluppa, per convergenza di interessi tra mercanti imprenditori e artigiani, in nostro caso ceramisti, la tecnologia. Ed è qui che si sperimentano soluzioni nuove, atte a corrispondere positivamente alle nuove tendenze del mercato. È così che nel centoneo composto da Dionigi Marmi alla metà del Seicento può comparire, nella copia di un ricettario ceramico quattrocentesco, la scritta «Dorato da Maiolica, questa ricetta fu portata proprio da lì, cioè da Maiorca, da un ricco mercante fiorentino». L'evidenza è persino imbarazzante. Detentori di un sapere pratico non tascurabile, i vasai di un centro di fabbrica non mancano di collaborare alle imprese artistiche della città dominante. All'inverso. Ed infatti i ceramisti montelupini forniscono l'argilla con la quale si realizzano i modelli dell'Appennino e del Gigante di Piazza, cioè della Fontana dell'Ammannata, e producono anche tutti i fornimenti ceramici delle spezzerie fiorentine, e non soltanto. Non per caso dunque ad essi ci si rivolge per realizzare i pavimenti da spedire a Maria dei Medici, regina di Francia, e poi per abbellire la regia di Palazzo Pitti. E solo delineando, senza pregiudizio di sorta, l'intero arco produttivo di un centro di fabbrica, mettendo in risalto ogni genere e tipologia di lavorazione in esso effettuata, che dunque potremo evidenziare la discontinuità propria ad ogni vicenda storia. La crescita e la decadenza, l'introduzione di nuove tecnologie, l'immigrazione e l'emigrazione degli artigiani. Questi sono i parametri essenziali per stabilire un'effettiva conoscenza che effettivamente possa dirsi storia della ceramica. Ovviamente quello che ho delineato non è l'unico approccio metodologico possibile alla problematica rappresentata dalle antiche ceramiche italiane. C'è infatti, ed è nobilissimo, un ampio settore di studio di tipo squisitamente storico-artistico, o se vogliamo ceramologico, del quale i miei amici e colleghi qui presenti e credo rivendichino a buon diritto l'importanza. Lo stesso mi sento di dire agli altri colleghi ed amici che si dedicano all'archeologia e che si volgono alla ceramica non tanto per studiarla quale materia a sé stante, quanto piuttosto per tranne datazioni o peggio ancora, perché è più difficile, indicazioni sull'economia e sulla società del passato. Quanto sia indispensabile nella ricostruzione della storia di un centro di fabbrica l'interazione tra diversi metodi d'approccio, e cioè tra lo studio della documentazione d'archivio, l'indagine di carattere artistico formale e quell'archeologia, lo dimostra chiaramente l'esperienza acquisita in questi anni in Montelupo. E mi limiterò quindi ad evidenziare, concludendo, il rapporto tra questi ultimi due aspetti, dando per acquisita l'importanza da attribuire alla documentazione scritta. Sappiamo, infatti, come gli scavi effettuati dal 1975 ad oggi ci consentano di delineare con precisione le forme, le tipologie decorative, le marche di bottega ed anche gran parte della tecnologia utilizzata dai forni alle fritte ceramiche nel centro di produzione di Montelupo. Queste indagini, però, avrebbero sicuramente assunto a loro volta una fisionomia forviante come in parte è avvenuto nel loro momento iniziale. Ricordo un bel articolo di Guido Vannini che in base ai materiali del posto dei lavatori cercava di stabilire quale fosse il carattere tipico della produzione del Montelupo. In quanto queste indagini potevano ben accreditare per Montelupo quel carattere di centro di produzione di massa che si esprimeva con prodotti di qualità media, quelli ben documentati dagli scarichi delle fornaci. Dai contesti archeologici, infatti, con grande difficoltà emergono testimonianze di una produzione più ricercata. Nel nostro caso, per esempio, notiamo una grande carenza delle maioliche farmaceutiche senza ricorso allo studio dei documenti musealizzati. Dunque, faccio vedere un capolavoro a Montelupino musealizzato. Insomma, i risultati che riconosciamo perché ha una marca anche se minuta, minuscola alla base dell'ANSA. Insomma, i risultati dei nostri scavi avrebbero ribadito per Montelupo lo sfavorevole confronto con Caffagione. È stato proprio il contributo dei ceramologi, quelli cioè che si sono dedicati all'analisi dei documenti e soprattutto di quelli musealizzati che ha consentito di correggere il carattere parziale e non esaustivo della produzione locale quale appunto emergiva dagli scavi. Mostrando come esistessero documenti di assai maggiore affinatezza. Un approccio multidisciplinare all'argomento si rivela dunque essenziale anche per la valorizzazione dell'attività di recupero delle testimonianze con metodo archeologico e per questo e con impazienza ascolteremo le presentazioni dei nostri valorosi relatori. Vi ringrazio per l'attenzione. Allora, ho già detto che Carme è autrice di un lavoro fondamentale sul figurato dell'istituto a Montelupino ma insomma questo è riduttivo. Carme è la storia della ceramica italiana fatta in Italia in quanto per lunghi anni è stata conservatrice alla sezione retrospettiva c'è le collezioni antiche del museo di Faenza e ora non potendo smettere il vizio di studiare lo fa con ancora maggiore impegno. a te Carme adesso dovrò dimostrare davvero quello che mi hai detto questa presentazione allora ecco prima di inoltrarmi dunque nel territorio italiano e quindi anche nel suo quadro museale ricordo quanto ha già abbondantemente anticipato Fausto cioè la sfortuna critica che a lungo ha gravato sulla maiolica di Montelupo una sfortuna che appunto è stata esaminata addirittura in uno specifico capitolo da Fausto e nella sua fatica in più volumi valorosa insomma è dedicata appunto alla storia della ceramica montelupina in effetti solamente da alcuni decenni Montelupo ha diciamo goduto di un interesse di studio per esempio per rimanere in ambito toscano Siena e Caffagiolo invece si possono freggiare di oltre cento anni di letteratura e questo ha conferito loro una posizione di rilievo in seno agli studi del settore per Montelupo invece bisognerà appunto attendere fino agli anni dopo la guerra del secondo conflitto mondiale degli anni settanta per vedere invece fiorire un certo interesse verso quest'ambito sia negli studi specialistici ma anche nel collezionismo privato da quel momento saranno soprattutto personalità come quelle di Galeazzo Cora uno studioso collezionista di spicco diciamo nell'affermamento europeo a fare da apripista e a far sì che quindi Montelupo assumesse e venisse conquistando dunque una corretta identità negli studi della maiolica italiana e anche diciamo pure che questo ritardato riconoscimento come si vedrà ha inciso e adesso lo vedremo sulla presenza diciamo di Montelupo nel quadro delle raccolte italiane incamminiamoci dunque lungo la penisola naturalmente da nord a sud naturalmente senza la pretesa di essere completi e senza anche dedicare troppo tempo alle collezioni che sono già dotate ampiamente di catalogo e partiamo intanto da Torino per esempio da Palazzo Madama ecco Palazzo Madama è una tra le più significative collezioni d'arte ceramica italiana costituita dal Marchese D'Azeglio che fu un intelligente raccoglitore così lo definisce Vittorio Viale la collezione non ha catalogo ma è interamente esposta e questo ha reso possibile vedete riconoscere un boccale molto bello di quante qualità che Viale dice che con lo stemma forse di Torino ecco per questa supposta valenza civica probabilmente fu acquisito alle collezioni di Palazzo Madama e nota il marchio della mezzaluna e aggiunge anche che è Faenza Capirota XVI secolo dunque rivelando mettendo in evidenza un criterio unificante secondo cui tutto ciò che era bello veniva attribuito a Faenza naturalmente considerando lo stato degli studi sulla maiolica di Montelupo intorno agli anni 30 quando Viale scrive difficilmente si poteva ipotizzare difficilmente diversamente oggi invece disponendo di strumenti molto più diciamo storico territoriale e ampi anche molto più affidabili possiamo dire che invece si tratta di un bel boccale di Montelupo con una decorazione prevalentemente destinata a forme chiuse e che ha un precedente cronologico come vedete nel boccale del 1544 del Vittorio and Albert di Londra con Stemma Brandi con le cornucopie proprio come quello di Torino a cui seguono degli altri boccali posteriori dei quali per esempio vi segnalo quello del Louvre che è anch'esso la marca della Mezzaluna che è molto attestata nei fornimenti da spezieria e un altro del Museo di Faenza che fa auto data al 1570-90 altezza e tipologia decorativa che ritroviamo anche ancora in un altro boccale un quarto boccale sempre con le cornucopie che si dispongono a modo di medaglione attorno ad una raffigurazione di una nave dell'epoca che è dipinta vedete con una consueta diciamo pure efficace rappresentatività della realtà gustosamente proprio enfatizzata a cui sicuramente contribuisce anche il colore di fondo questo giallo luminosissimo che è peculiare a Montelupo quanto all'araldica ecco del boccale di Torino dunque abbiamo scartata l'ipotesi che possa trattarsi di quella dell'Augusta Taurinorum ecco che invece crediamo si possa identificare in quello della famiglia Tarugi di Montepulciano nel Senese e del quale come vedete anche nel boccale e del quale appunto si è adesso non ho messo ecco vedete che ho messo accanto appunto anche l'araldica tratta da dei repertori di araldica dicevo pure con i limiti della tavolozza della maiolica comunque vengono rispettati i colori araldici da Torino passiamo a Milano al Museo del Castello che possiede una delle raccolte più cospicue di maioliche italiane Montelupo è rappresentato con 23 opere e sono noti grazie alla collezione pubblicata integralmente in un ottimo catalogo scientifico acquisita comunque attraverso prevalentemente il legato Ponti del 1895 e poi anche qualcosa attraverso l'antiquario Inbert del 1924 le opere rappresentano come potete notare in questa somma che vi ho raccolto direi un po' tutte le tipologie di repertorio di Montelupo dal 400 al 600 dunque gotico floreale prevalente azzurro prevalente o litolo boresco come si preferisce foglie di prezzemolo tipo Santa Fina poi ancora losanghe di ispirazione orientale le raffaellesche le girale fogliate ecco andiamo avanti alcune tra esse sono veramente pezzi diciamo di grande eccellenza qualitativa e documentaria per esempio dei grandi orci da farmacia che richiamano la coeva produzione figurata o istoriata e per arrivare addirittura vedete sulla vostra destra cronologicamente con due estremi cronologici precisi che sono il 1620 e il 1694 ancora a Milano andiamo avanti si conservano maioliche nella raccolta di famiglia dei bagatti valsecchi nata come una casa museo un po' sul clima dello storicismo tardo-tocentesco e di Montelupo conserva 11 pezzi sono tutti pubblicati però tengo a dire che provengono dalla donazione dell'architetto milanese Alfonso Rombelli sulla cui raccolta si era battuta la furia dei bombardamenti nel secondo conflitto mondiale e che fu anche un grande donatore del museo di Faenza ecco sono vedete delle coppe delle crespine degli albarelli ecco notate soprattutto gli albarelli e la foglia blu perché torneranno utili più avanti e poi ancora palmette persiane e delle anfore arafaellesche andiamo avanti ecco in Lombardia anche se si tratta soltanto di un caso devo ricordare la coppa la grande coppa dei musei civici di Brescia che rappresenta il giudizio universale dedotto dalla parte alta di una importante incisione di una grande incisione di Mario Cartaro appunto con il giudizio universale ed è uno devo dire dei più rari e riusciti esempi di istoriato di Montelupo siamo intorno a 1570-75 la qualità cromatica è bellissima le ocre dorate vedete si raccordano perfettamente con l'azzurro dei panneggi insomma per la sua qualità tra l'altro è stata considerata per decenni un'opera di ambito faentino cosa poi così non lontana dal vero se consideriamo che diciamo quanta parte abbiano avuto per esempio le maestranze faentine in ambito toscano già a partire dal primissimo 500 andiamo ancora a qualcosa di Montelupo è presente a Saronno alla villa Gazzada costituita nella seconda metà dell'Ottocento da Carlo Cagnola ecco si tratta di una coppia di albarelli a palmetta persiana e di una coppia di vasi bianzati a girali fogliate considerati però dall'ausenda imitazioni del XIX secolo comunque diciamo che si riferiscono se riprendono imitano delle tipologie dei corredi da farmacia uno in particolare oggi disperso uno è anche a Faenza vedete nella collezione Cora con l'emblema della fontana e si datano tra 1560 e 70 un altro museo lombardo che conserva qualche esempio di Montelupo è quello nato sulla donazione Francesco Franchi del 2004 nella pinacoteca di Varallo Sesi è una collezione che è dotata di catalogo sono soltanto tre opere ma sono molto significative perché sono esemplificazioni di tipologie montelupine attestate da reperti sul territorio ma della prima maniera rinascimentale specialmente delle famiglie della zaffera diluita dell'azzurro prevalente quindi un genere che specialmente l'azzurro prevalente accoglie per primo i fermenti del figurato di gusto gotico andiamo in Trentino Alto Adige qualcosa di Montelupo è ancora prima credo ecco qua sotto Rovereto ecco Rovereto le cui ceramiche provengono prevalentemente dalla donazione dell'archeologo Paolo Orsi si tratta vedete di un frammento di un piatto decorati alla foglia blu e ancora di un piatto a losanghe ecco dalla Lombardia passiamo al Veneto ecco nelle collezioni formate da Jacopo Bisacco Palazzi donata alla scuola grande di San Rocco ho rintracciato vedete un albarello un albarello lo vedete sulla vostra sinistra è del tipo a strisce policrome un tempo era nella raccolta Pisa e può essere accostato ad altri ad esempio che sono finiti nel museo di Faenza nel museo civico di San Gimignano e soprattutto a quelli recuperati nell'area del castello dello scavo del tridente pubblicati da Berti datati intorno al 1550-70 andiamo avanti ancora nel prestigioso museo Correr invece ecco una magnifica raccolta costituita e poi donata da Teodoro Correr invece che voi sapete forse l'avete anche visto sono magnifiche maioliche storiate marchigiane non mancano anche Venete non mancano Faentine beh Montelupo è assente ed è una situazione analoga anche per altri musei veneti come quelli di delle Nove di Bassano e di Treviso a Feltre però nel bellunese nel locale museo civico mi è stata segnalata una fiasca da farmacia decorata alla foglia blu con l'emblema di una colonna fa parte di una produzione secentesca di Montelupo molto copiosa e che viene utile direi proprio osservare come questa ricognizione fra le ceramiche e i fondi diciamo museali italiani beh possa far emergere dei materiali che poi poco noti ma dotati dello stesso emblema e che quindi in futuro possono costituire diciamo occasione per ricostruire degli antichi nuclei farmaceutici alla fiasca di Feltre infatti possiamo affiancare per esempio un albarello delle collezioni di San Martino di Genova e poi anche tre vasi bianzati uno pubblicato da Fausto di cui tra l'altro identifica l'emblema quello della farmacia fiorentina all'insegna della colonna che era sita nel mercato vecchio e già appartenente ai del Troscia noti committenti di vasellami di Montelupo e altri sono passati sul mercato antiquario quindi piano piano vedete si riescono anche a ricostruire un po' dei nuclei passiamo a Trieste al museo civico che fu inaugurato nel 1954 e qui sono conservati quadri cose di arte applicate e anche molte ceramiche frutto diciamo dell'aggregazione di patrimoni di famiglie triestine bene nel corso del sopralluogo che feci alcuni anni fa in occasione della stesura del mio lavoro sul figurato sull'istoriato di Montelupo bene ebbi la conferma che una bella coppa figurata direi di fattura pari a quella raffigurante i pastori e l'adorazione dei pastori di Brescia ecco tratta oltretutto da una stampa colta di Giovanni Battista Franco ecco dicevo attribuita da Giuseppe Liberani a Faenza ecco che sulla base invece di provanti confronti tecnico-stilistici si dovesse invece assegnare alle officine di Montelupo scendiamo in Emilia Romagna beh e devo dire il museo di Faenza è conserva in assoluto è la più significativa raccolta di ceramiche di Montelupo non soltanto in Italia ma credo nel mondo sia con opere di buona completezza ma anche con un grande grandissimo fondo di cartoni stracolmi di frammenti migliaia le opere di buona integrità pensate sono oltre mille soltanto le opere integre o complete frammentate ma complete questa condizione privilegiata si deve assolutamente a Galeazzo Cora che di Montelupo nel 1979 ha donato un corpo che addirittura raggiunge 860 opere e poi come dicevo tanti frammenti prevenente dall'area Fiorentino Val d'Arnese e di queste pensate che 250 sono di Montelupo a questa donazione poi dieci anni dopo seguita quella di Angelo Fanfani con altri pezzi 150 pezzi dei quali 63 di Montelupo e qui siamo dai tipi a zaffera rilievo diluita qui faccio vedere degli insiemi perché veramente è impossibile poter dedicare anche ci vorrebbe un incontro solo sulle due donazioni Cora e Fanfani comunque considerate che ci sono dei pezzi veramente significativi anche di grandi spezierie fiorentine come quelle di Santa Maria Novella e di Santa Maria Nuova le opere delle due donazioni però sono note e sono state anche oggetto di molte esposizioni e hanno anche i cataloghi integrali mi fa piacere comunque solo che notiate che quando attesi alla esposizione delle due donazioni nel percorso retrospettivo del Museo Faentino mi fece piacere imporre tutti e due dentro all'interno di una stessa bacheca attraverso due bellissime fiasche da farmacia una della collezione Cora l'altra della collezione Fanfani appunto non solo perché di uno stesso corredo farmaceutico ma anche per unire idealmente lo spirito e la memoria dei due grandi collezionisti che donatori che furono legati per decenni da una rara amicizia intellettuale della Fanfani fu proprio il piatto con Mosè andiamo avanti su Montesina il marcato LA che abbiamo già visto anche prima attraverso l'intervento di Fausto e che mi dette il modo di aprirmi alla conoscenza sul figurato di Montelupo un genere degno non solo di interesse come si è visto anche attraverso le coppe di Brescia e di Trieste ma perché è parte integrante proprio del contesto dell'istoriato italiano del secondo 500 istoriato che per molti anni era stato anche confuso con la produzione minore istoriata meno riuscita marchigiana e anche in parte faentina siamo di fronte al pittore dell'istoriatore della Bibbia intorno al 75-80 e che utilizza prevalentemente vignette silografate tratte dalle Bibbie illustrate di bellissime figure ornate e prevalentemente di soggetto vetero testamentario le teche con le due donazioni però inserite nell'ordine cronologico dell'itinerario retrospettivo trovano integrazioni interessanti però anche con altre donazioni che hanno appunto anch'esse Montelupo attraverso che si sono formati nuclei che si sono formati attraverso varie donazioni e anche moderati acquisti dopo la guerra ecco sicuramente andiamo avanti un boccale ecco con la foglia di prezzemolo leone rampante che si può mettere accanto o confrontare con un altro pubblicato da Fausto che viene che è del museo di Montelupo ancora un altro albarello affine vedete interessante perché ha uno stemma che si può rapportare con un bellissimo vaso bianzato della donazione Cora che ha lo stesso stemma dell'albarello e quindi anche questo parte di una prestigiosa farmacia vediamo ancora un pezzo alla porcellana no no stiamo ancora su un pezzo alla porcellana con una bella poi vediamo un pezzo compendiario interessante un piattino con lo stemma salviati e la data 1570 un tempo dato a Caffagiolo una brocca da farmacia con corolle di ispirazione veneziana dotata della marca dell'amo dei marmi e datata 1653 e un piattino alla foglia verde datato 1660 dunque pezzi assolutamente significativi perché ci consegnano delle date certe nel museo di Faenza Montelupo è presente anche per esempio nella grande donazione Merichi un obulluomo di origine marchigiana che risiedeva a Roma e la sua collezione di oltre 200 pezzi fu donata nel 1953 all'anno stesso della morte del fondatore Gaetano Ballardini e costituì una delle grandi donazioni che devo dire contribuirono alla rinascita delle raccolte del museo di Faenza dopo gli orrori dei bombardamenti della guerra che lo abatterono nel maggio del 1944 di Montelupo ci sono 12 esemplari alcuni molto significativi stemmati c'è un catalogo e quindi è bene rimandare a quello perché proprio non avremmo il tempo a Palmetta Persiana vedete adesso io vi ho messo così un po' degli insiemi solo perché abbiate un po' un'idea e alcune sono ecco quello che mi interessa è mostrare però focalizzare alcuni boccali di grandi dimensioni imponenti presenti anche in altre collezioni per esempio a Genova a Torgiano a Palermo che hanno dei busti dei busti di belle donne di personaggi paludati all'antica ma sempre di rara sintesi compendiaria e sono molto problematici tant'è vero che non mi pare che Fausto li abbia inclusi nei suoi volumi ecco d'altronde io dico così butto là c'è sempre un attimo da considerare e tenere presente che c'è il problema delle produzioni delle botteghe romane del Cinquecento dove erano presenti maiolicari che provenivano dai più importanti centri promotori della maiolica italiana e che riprendevano motivi tipici dei loro ruoghi d'origine naturalmente oltre a Faenza abbiamo sondato anche i fondi di altre realtà romagnole per esempio i musei civici di Forlì di Imola ma non abbiamo riscontrato nulla di Montelupo nel museo però di San Vitale ecco segnalo un albarello da farmacia decorato la foglia blu ed è interessante perché porta frontalmente lo stesso stemma delle due brocche anch'esse da farmacia della raccolta Bagatti Valsecchi quindi ritorniamo al discorso che almeno siamo riusciti in questo lavoro anche ad aggregare dei nuclei dunque anche in questo caso ci troviamo di fronte a tre vasi di raccolte diverse ma comunati dalla stessa veste dalla stessa raldica e quindi ciò che rimane di un corredo che sarebbe auspicabile in futuro potere quindi maggiormente ricomporre però ecco andiamo pur avanti in ambito romagnolo mi fa molto piacere segnalare una realtà museale credo singolare e conosciuta penso a pochi il museo di San Rocco a Fusignano il museo è nato nel 2001 sulla cospicua donazione di targhe devozionali raccolte da Sergio Baroni un collezionista raffinato un gallerista milanese che le ha donate in memoria dei genitori che erano nativi fusignanesi sono prevalentemente targhe mariane dal sedicesimo al ventesimo secolo e sono di varie manifatture italiane ecco significativa è la presenza di quelle toscane tra queste ben dodici sono assegnate a Montelupo anche se devo dire in alcuni casi forse le attribuzioni dovranno essere un po' affinate comunque alcuni sono dei veri capolavori come questa che vedete alla vostra sinistra una presenta la Madonna col bambino poggiante sul crescente lunare e gli angeli ecco di cui Berti pubblica un'analoga versione in località pulica di Montelupo datandola al 1630 40 un'altra versione sempre nella stessa sempre della stessa iconografia si mostra un campione di grande interesse perché a parte che è più concentrata e semplificata però notate che porta la data 1661 e la marca LA quindi una marca che è attestata a Montelupo in reperti dell'area del castello e che appunto Fausto dice fino al 1660 circa centratissima quindi non meno interessanti ancora altre madonne vedete col bambino della donazione Baroni due con le matrone incoronate tessuti preziosi quindi opere anche queste di qualità ma una terza in basso si segnala per la sua derivazione una derivazione robbiana quindi anche questo un modello colto da cui è ricavata una versione pubblicata sia da Conti sia da Giancarlo Gentilini e che porta però alla data 1666 e la segnatura Meo TB un'altra targa ancora vedete sulla destra presenta la versione della Madonna col bambino che anche questa è una matrice colta un basso rilievo di Benedetto da Maiano ed è diffusa nel senese specie nella produzione vedete di San Quirico ma anche di Deruta e porta il trigramma IHS e un'iscrizione che evoca la preghiera del Trisagion no? Santus Deus Santus Fortis Santus Immortalis ecco San Quirico in questo caso secondo me è un riferimento andiamo pure avanti ecco che credo vada fatto per due versioni della Sacra Famiglia della stessa raccolta di Fosignano e così anche per una piccola Madonna col bambino oltre però le targhe mariane sempre il museo di San Rocco conserva di Montelupo anche due targhe due con il simbolo IHS di San Bernardino ma anche dei Gesuiti e poi anche una terza con il simbolo Francescano che però ha una diversa tecnologia in questo caso è ingobbiata e invetriata andiamo avanti dalla Romagna passiamo a Bologna Montelupo è presente nelle collezioni comunali bolognesi con degli arlecchini e poi andiamo al museo civico medievale è sempre lì e sono noti i pezzi del museo civico medievale attraverso il catalogo che è uscito già nel 1985 ed è lo sappiamo il museo medievale frutto dell'aggregazione di grandi musei storici poi confluiti nelle collezioni universitarie bene quella di Montelupo è una presenza ridotta a due opere a tre opere pardon un piccolo albarello a palmetta persiana ma soprattutto due grandi orci da farmacia che appartengono ad una farmacia storica fiorentina quella di San Marco o dell'osservanza questi furono oggetti di uno scambio prassi discutibile ma insomma tra le direzioni dei due musei per cui a Firenze finì uno dei grandi vasi come vedete sulla vostra sinistra in basso che fu appunto del civico museo di Bologna fu finito e finì così a Firenze uno di questi vasi che considerate era fortemente legato a Bologna perché conteneva la teriaca Magna di Andromaco che veniva tutti gli anni con una pompa solenne veniva preparata davanti al popolo di Bologna dispensata agli speziali proprio con una solenne cerimonia quindi ecco questa è finita indichiaria indichiaria